Il lancio sulla sinistra per Tavano in posizione regolare, mantiene in capo il pallone Tavano, va a puntare Lanzaro, lo salta Tavano, aria di rigore, cross in mezzo, gol, gol, gol! E Polì in vantaggio con Nicola Pozzi, è stato molto bello il lancio sulla sinistra per Tavano che era tenuto in gioco e poi Tavano bravissimo a saltare Lanzaro e a pescare a centro aria Pozzi che adesso in contropiede, Boucher sulla sinistra, la sovrapposizione di Moro, un po' rallentata l'azione, riceve comunque palla Moro, tre azzurri in avanti, il cross arretrato, Franceschini fa su il pallone, se lo fa soffiare da Tavano, aria di rigore, va a Tavano, il sinistro e gol, gol, gol di Tavano! Chele per lui, batte il record di segnatura di un giocatore dell'Eppoli in Serie A, Eppoli 2, Regina 0, grandissimo gol di Tavano!